No, no, io li porto. Sindaco dove li porti? Sindaco dove li porta? Io li sudo. Signori per favore un attimo. Villorba, provincia di Treviso, ennesimo esempio della gestione assurda degli immigrati che arrivano nel nostro paese. Il sindaco Marco Serena si è trovato una cinquantina di clandestini che vagavano per le strade della sua cittadina. Le avevano scaricati lungo l'autostrada A27, probabilmente da un camion. Come testimoniano le immagini di rete Veneta, le forze dell'ordine li hanno radurati lungo il muro del cimitero e hanno chiamato il sindaco. E così, quando è arrivato, il primo cittadino ha detto no e li ha caricati su un autobus di linea in direzione prefettura. L'autobus è partito alla volta di Treviso e ha scaricato gli immigrati proprio di fronte al Duomo. Sono stati caricati questi 56 giovani uomini maschi, 56 giovani maschi in autobus e adesso io li riconsegno allo Stato. I carabinieri del comando provinciale hanno avviato una lunga trattativa con il sindaco perché li riportasse a Villorba, ma il primo cittadino non si è mosso di un millimetro. Alla fine il sindaco Serena l'ha avuta vinta, ma dopo il danno arriva anche la beffa. Dopo essere stati identificati e assistiti durante la notte, i clandestini sono spariti nel nulla e ora nessuno sa che fine abbiano fatto. Non c'è più lo Stato, non c'è più nessuna volontà di controllare il flusso di persone che arrivano all'interno del nostro paese.